Ma che cosa è successo? È successo qualcosa fra voi quattro? No, noi ci siamo conosciuti oggi. Ma com'è questa roba che è stata ripresa da tutti i blog? Scusate, così esauriamo questo dubbio. Mi fate vedere? Teresa e Salvatore Sposi, le parole di Damante scatenano la polemica. Ma quale polemica? Grande fratello Vitti, il commento di Andrea Damante su Teresa e Salvatore. Andrea, ma che hai detto su Teresa e Salvatore? Non mi ricordo. Eh sì, ho letto i blog. Si ricorda Teresa? Mi ricordo benissimo. Forse avevo detto una cosa sul... Praticamente è una domanda, no una domanda, un'affermazione fatta dalle Mosetti che noi eravamo molto carini, io e Salvatore. Lui ha risposto che siamo esagerati. Se l'esagerazione comunque oggi è amarsi troppo, non lo so. Se l'ha detto in senso positivo o negativo, non lo so. Però questa è stata la sua affermazione. No, io avevo detto che comunque quando avevo visto la puntata Uomini e Donne, quando c'era stata quella, la richiesta da parte di Salvatore che è stata bellissima, tutto comunque magari il contesto, i vestiti... Anche tu però sei molto esagerato di uscire la lacrimuccia al grande fratello. Perché amare è bello, è bello quando tu lo fai liberamente senza che nessuno... Quello è un'altra cosa. Anche tu sei stato un po' esagerato. Perché sei diventato esagerato. Io ti spiego, il mio esagerato è stato che secondo me tutta quella, diciamo, scena è stata molto, molto carica da vestiti, cose... Ma è successo anche a te però, adesso. Quando? Anche al grande fratello. Fino a poco fa hai detto che lo vuoi fare pure. Sì, no, non ho detto che lo voglio fare pure. Non ho detto che lo voglio fare pure. Ho solo detto che secondo me quella scena, quando l'avete fatta voi, è stata secondo me un po' troppo carica. Ho detto solo questo, ma ci sta... Perfetto, ma anche al grande fratello tu stavi male, ti tiravi i capelli per te. Ma è un'altra situazione. Eh beh, però io ti capisco perché ci sono passate pure io. Non sto sindacando sul fatto che voi due avete fatto qualcosa di sbagliato. Ho detto che secondo me quella scena è stata un po' troppo esagerata. Io se dovessi chiedere di sposarmi a lei, lo farei in privato, io e lei da soli, in un posto magari anche sperduto e il più romantico possibile. Perché la penso così, il mio pensiero è normale. Se non è che hai detto chissà cosa. Scusami se posso, se mi permetto. Io preferisco 10.000 volte che lui mi fa la proposta davanti a tutti, che no, che la mia donna davanti a tutti deve dire che possibilmente è incinta, oppure che sei rifatto il seno, che hai scelto la misura tu del soldo. Ma lei non ha detto questo. Secondo me questo è più esagerato. Ma lei è stato un giorno che è andata pubblicamente. Mi è stata fatta la domanda. Ma voi ci avete mangiato sopra. Ma io non ho bisogno di mangiare sopra queste cose. Non è che lo vado a dire dentro la casa del grande fratello. Ma lei non ho bisogno di mangiare sopra queste cose.